Un altro incontro per assumere impegni concreti contro il fenomeno dei furti nelle aziende orafe si è tenuto presso il palazzo della prefettura di Arezzo. Al tavolo il prefetto Clemente Dinuzzo, la consulta orafa retina ai vertici provinciali delle forze dell'ordine. Un ennesimo confronto a pochi giorni dall'ultimo assalto all'azienda orafa a Tegoleto. Particolare attenzione, si legge nella nota, sarà posta al rafforzamento dei servizi di controllo e al coordinamento delle forze di polizia con il contributo degli istituti di vigilanza privata operanti per il settore e alla sensibilizzazione sulla necessità di un adeguato rafforzamento dei sistemi di sicurezza passiva delle imprese stesse. In particolare, gli istituti di vigilanza sono stati convocati per una prossima riunione in questura volta ad approfondire alcuni rilevanti aspetti tecnico-operativi, ha detto il prefetto. È fondamentale in questa fase non trascurare nessun aspetto del problema perché è dall'azione e dalla collaborazione di tutti gli attori in campo, istituzionali e privati, che si può dare una risposta positiva al problema.